Endless Love, anticipazioni 2 stagione, Zeynep ricoverata d'urgenza dopo la morte di Uzzan. Le anticipazioni turche sulla seconda stagione di Endless Love rivelano che Zeynep si ritroverà a vivere dei momenti di paura dopo la morte di Uzzan. La donna sarà scossa dalla drammatica notizia della morte del marito, tanto da decidere di darsi alla fuga e farà perdere le sue tracce per diverse ore, fino a quando non si sentirà male. Zeynep, incinta del suo primo figlio, sarà colta da forti dolori al basse ventre, che la costringeranno al ricovero d'urgenza in ospedale, dove scoprirà di aver perso il bambino. La morte di Uzzan dopo lo scontro con Zeynep la morte di Uzzan sarà l'evento cruciale con il quale si chiuderà la prima stagione della soap opera turca. Il ragazzo verrà trovato privo di vita all'interno della camera di ospedale dove si trovava ricoverato in seguito a una sospetta intossicazione. Prima del decesso, però, Uzzan aveva scoperto il tradimento di sua moglie con Emir, tra i due c'è stato un duro scontro al telefono, durante il quale il fratello di Nian si è detto pronto a fargliela pagare. Zeynep viene ricoverata d'urgenza, anticipazioni endless e la seconda stagione la notizia del decesso di Uzzan, però, stravolgerà la vita di Zeynep, la donna si darà alla fuga e deciderà di non informare nessuno. La fuga di Zeynep verrà interrotta da un malore improvviso, dopo essere stata derubata della borsa, inizierà ad accusare dei dolori al basso ventre e verrà subito portata in ospedale. Al suo risveglio verrà informata della perdita di suo figlio, una notizia veramente difficile da accettare. La ragazza sarà ancora convinta che il bambino sia di Emir, ma la verità dei fatti che il piccolo in realtà era frutto del matrimonio con Uzzan. In seguito all'aborto, Zeynep non potrà più scappare dato che il commissario Hakan aprirà un'indagine per il furto della borsetta e si metterà in contatto coi familiari della donna, che correranno subito da lei in commissariato. Le puntate speciali della soap ritornano a settembre intanto da questa settimana risulta sospeso l'appuntamento speciale con la soap opera nel weekend di Canale 5. Da sabato 29, e per le settimane successive, ci saranno My On My Destiny 2 e La Promessa nel pomeriggio estivo di Canale 5. Tuttavia Endless Love tornerà in onda nuovamente con le puntate speciali a partire da settembre, la soap continuerà a essere trasmessa al sabato pomeriggio, nello slot orario che va dalle 14.45 alle 16.30, prima di Verissimo.